non potest esse severus in iudicando qui alios in se severus iudices esse non vult non può essere non potest esse severo severus nel giudicare in iudicando colui che qui non vuole non vult che gli altri alios siano giudici severi severus iudices esse nei propri confronti in se concludiamo con la quinta perla di saggezza multi patrimonia e fundunt in consulte largendo molti multi sperperano e fundunt i patrimoni patrimonia e largendo largendo in maniera avventata senza criterio in consulte a